... Oh, Vontoiro, ci siamo capite per andare spaventose nel bosco? Ehi, Toschi! Eh, non ci prendiamo. Andiamo. Io volevo... Io volevo poi qualcosa di mangiare la... di pranzo. Ehi, Toschi! C'è qualcun altro... C'è il lupo mannato. C'è il lupo cattivo. Dai! A Vontoiro, ti scongiuro, dobbiamo mettere qualcosa nella gabbia. Hai capito? Ma non è... ma non è lo scatolo. Oh, eccolo là! Ma dove sei finito? Sei l'altro di Dico. Vieni qui, non sto scherzando. Aiuto! Eh, scusa! Si può prendervi la gabbia? Mettevi la corda? Ma certo che vuoi. Sì, scusa! Sì, scusa! Sì, scusa! Uh, 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 uh! partire per cacciare e prendere la corda e poi lo portare la gabbia nello zoo, ok? Certo, ok? Non preoccuparti il serpente, dovremo... è geniale! Yabba Dabba Doo! Ok. Grazie!